Ciao a tutti, sono Elisa e benvenuti nel giardino di... fatti! Allora, questa sera volevamo rinvasare questa piantina di Amici del Sole. Solo che non avendo un vaso un po' più grande, abbiamo pensato di recuperare un cestino, metterci all'interno un sacchettino di plastica, della terra all'interno e poi rinvasare la piantina. Allora, appoggiamo il sacchettino di plastica all'interno del cestino. Bravissima! Facciamo qualche foro. Che dici, fatti? Li facciamo tutti intorno, qualcuno in mezzo? Eh sì, penso che ormai possono restare. Qua giù lo fatti? No, ne manca uno qua. Ok, ora, come primo strato andiamo a mettere la terra del campo di patti e ritorniamo subito. Allora, abbiamo preso la terra, adesso si ha patti. Taglierà a filo il sacchettino... sacchettino... cos'era questo patti? Un sacchetto era? Un sacchettino di plastica. Dopo il primo momento, come dirà? Valeria. Lo tengo tirato, è così deve tagliare un po' meglio. Ok? Allora, i bordini li andiamo a rifilare meglio dopo. Mettiamo uno strato di terriccio, quello bello. Così lo misceliamo. Ok? Adesso viene la parte più impegnativa. Dobbiamo togliere... Aspetta, fatti. Facciamo così. Allora, dobbiamo togliere questa piantina dal suo vaso. Non è facile perché il vaso è... Diffici pochi, ci ricco. Ok, sei stata super bravissima. Adesso andiamo a togliere un po' le radici. Le buttiamo qua. Ok. L'abbiamo inserita nel cestino. Ora, Sia la sta ricompattando. Adesso, mano a mano, metto giù la terra. Ok. 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 ci siamo allora ora serve un boccino d'acqua allora il nostro gestino è terminato grazie all'aiuto che ci ha fatti come ti ho fatto vedere anche nei video precedenti a me piace tantissimo utilizzare degli oggetti che riponiamo magari negli angoli più nascosti le nostre case e ridargli così nuova vita quindi in questo caso questo gestino vero patti era abbandonato a se stesso in un angolino l'abbiamo riutilizzato anche per questa sera il video è terminato patti sei iscritto al canale bravissimo patti e te sei iscritto al canale bene se ancora non l'hai fatto iscriviti ora ciao da elisa e ciao da patti ciao ciao